La mancata approvazione del bilancio consolidato al Comune di Vittoria provocherà conseguenze tragiche su personale, eventuali assunzioni e trasferimenti finanziari. Questo è il tema della lettera appello dei sindacati segnatamente FPCGL e CISLFP in una nota inviata al Presidente della Civica Assise ai capigruppo consigliari e ai singoli consiglieri. Dalla bocciatura del bilancio si legge nella nota paleserebbero rilevanti percussioni sul sistema di reclutamento del personale. La legge prevede che gli enti che non rispettano i per l'approvazione del bilancio consolidato non possono procedere alle assunzioni di personale a qualsiasi titolo con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione. Conseguentemente il venir meno di nuove assunzioni comporterebbe l'aumento esponenziale del carico di lavoro, compromettendo così la funzionalità di importanti uffici. Basti pensare, proseguono i sindacati all'esico numero degli addetti ai servizi sociali, impegnati costantemente a contrastare i ricordi delle nuove povertà, i bisogni degli anziani, disabili e più in generale dei soggetti fragili, i servizi demografici fortemente impegnati nell'erogazione di nuovi servizi alla collettività spesso a supporto delle istanze di welfare, l'organico ridotto dei tributi dove anche l'apertura al pubblico di un solo sportello diventa la scommessa quotidiana, gli uffici tecnici alle prese con i vari adempimenti per l'ottenimento dei bonus, rilascio concessioni edili e ancora i progetti del PNRR da cui dipendono importanti finanziamenti per la nostra città, la polizia municipale ridotta a lumicino che conta una quarantina di agenti, il ridotto numero degli operai giornalieri addetti alle manutenzioni, questi sono alcuni degli uffici che necessitano nuove assunzioni, altri non menzionati non stanno di certo meglio. Risulta del tutto evidente che tale importante prescrizione, proseguono i sindacati, renderebbe inapplicabile il documento di programmazione relativo al fabbisogno del personale e non è poco se si considera l'odierna consistenza della dotazione organica dell'ente che conta circa 350 dipendenti, fortemente ridimensionata dai pensionamenti e non risturata dal turnover a causa delle restrizioni della finanza pubblica. Auspichiamo un ripensamento solidale e responsabile a prescindere dalle appartenenze politiche, concludono i sindacati, riteniamo sacrosanto il diritto delle forze politiche di esprimere il dissenso verso l'amministrazione ma invitiamo al tempo stesso gli esponenti di opposizione a valutare con responsabilità le conseguenze derivanti dalla mancata approvazione del bilancio consuntivo. Questo non significa venire meno nel ruolo di opposizione ma agire nell'interesse generale per il bene dell'ente, di chi ci lavora e della città nel suo complesso. Grazie. Grazie. Grazie.